Alleanza Verdi Sinistra è in campo per un'Europa di alternativa, un'Europa contro il riarmo, un'Europa che sia in grado di costruire un negoziato di pace in Ucraina, così come fermare il massacro in Palestina, che tuttora continua, un'Europa contro i nazionalismi e delle istituzioni comunitarie, un'Europa che sia in grado di contrastare il razzismo strisciante nelle nostre società e anche dentro al Parlamento europeo, un'Europa femminista che sappia contrastare l'omofobia e il patriarcato e quindi c'è molto in ballo in realtà alle elezioni europee, non c'è solo un problema di voto, c'è un problema di scegliere in quale società, in quale idea di società e in quale Europa scegliamo di vivere.